Io sono qui per salutare i cittadini e gli amici di Borgo Croce. Non siamo qui per inaugurare un pulmino, ma per dimostrare che in un fatto doloroso di vandalismo una comunità coesa riesce a trasformare in un atto di rinascita. Sembrava che con l'incendio di questo pulmino il lavoro fatto da questi ragazzi in questi anni fosse andato perduto. Invece si è dimostrato che poi alla fine ha dato più forza e più coraggio a questa comunità.